ragazzi questo tutto questo fa schifo tutto questo fa schifo che schifo ragazzi l'avete visto il rigore che è andato alla juve al novantesimo al novantaquattresimo se non avete visto la partita ok magari vi siete visti gli highlights e tutto ma chi ha visto la partita lo sa che il rigore non era da dare non era da dare arbitraggio scandaloso come al solito come al solito comunque parliamo della partita allora genoa fantastico ma non fortunato complimenti ai ragazzi e complimenti a tiavomotta ragazzi avete fatto un partitone stasera siete stati fantastici ma l'ingiustizia purtroppo ci nega ci nega la gioia troppe volte troppe già è successo troppe volte che l'ingiustizia ci nega la gioia e mi sono rotti i coglioni e stavolta è successo per colpa di un figlio di puttana anzi è già successo altre volte ma stavolta sono particolarmente incazzato perché ci stavamo prendendo un punto un punto contro la juve ok a torino tra l'altro un punto con la juve a torino l'anno scorso ci eravamo riusciti ci stavamo per riuscire anche quest'anno però un figlio di puttana ci nega la gioia parliamo della partita che ha visto un genoa fantastico primo tempo meglio la juve che dopo dopo aver spinto molto al 39esimo trova il gol grazie a un colpo di testa di molucci dopo un calcio d'angolo che anticipa radu che esce molto male gol preso anche per colpa anzi soprattutto per colpa sua perché è uscito veramente male comunque dopo il gol della juve il genoa comincia a giocare bene comincia a spingere molto comunque ci sta perché giochiamo con la juve e alla fine ci sta che giocassimo non giocassimo proprio alla pari all'inizio poi però dopo il gol ci siamo svegliati dopo il gol della juve ci siamo svegliati abbiamo iniziato a giocare bene e siamo riusciti a trovare il gol in un modo dire anche abbastanza molto strano grazie a Kwame che praticamente aveva tirato col destro soltanto che la palla gli è rimbalzata sul sinistro e con una carambola trova il gol in qualche modo Kwame comunque riporta il risultato sul pareggio porta il risultato sul 1 a 1 finisce il primo tempo il genoa nel secondo tempo fantastico fantastico ma non fortunato espulso Cassata allora eccoli eccoli che inizia a rompere il cazzo l'arbitro di merda perché espulso Cassata allora Cassata che è stato ammonito nel primo tempo e se avesse fatto un fallo da giallo dico ok ma ragazzi l'avete visto il fallo di Cassata il fallo di Cassata che non è neanche da giallo ok era già ammonito quindi comunque se avesse preso un giallo sarebbe stato espulso giustamente ma qui si parla di un falletto cioè ragazzi inesistente il giallo come cazzo fai a dare un giallo del genere questo fallo non era nemmeno da giallo comunque da lì il genoa inizia a fare leggermente più fatica ma rimane fantastico il genoa veramente fantastico stasera e tiene testa per più di 40 minuti alla Juventus che poi al 92esimo ha trovato il gol del vantaggio che però è stato annullato giustamente tu stavi per dare un gol inesistente in fuorigioco tu stavi per dare un gol in fuorigioco così tu stavi per dare sto gol e già sta cosa mi fa incazzare ma la cosa che mi fa più incazzare ragazzi è quello che accade due minuti dopo no un minuto dopo scusate comunque poco dopo accade lo schifo mano ovvero il rigore dato alla Juve al 94esimo viene dato un rigore inesistente Sanabria che dicono probabilmente Juha ha visto che Sanabria aveva commesso fallo su Ronaldo in aria quindi ha dato rigore ma ragazzi andando a rivedere si vede chiaramente che il rigore non c'è non c'è chi ha visto la partita lo sa e questa è un'ingiustizia in Europa ste cose non accadono non accadono ste cose in Europa solo in Italia solo in Italia perché questo calcio italiano fa schifo non come in Europa in Europa sarebbero andati a vedere il VAR sarebbero andati a controllare invece no ha deciso di dare un rigore così quello che sarebbe successo dopo non lo so magari Ronaldo avrebbe continuato l'azione ma comunque tra l'altro se non avesse dato rigore sarebbe stato calcio di punizione per il Genoa ma tu come fai a dare un rigore del genere vai almeno a ricontrollare se i giocatori del Genoa continuano a protestare vai a controllare se è tutta la squadra che ti dice che il rigore è inesistente vai a controllare questo cazzo di VAR di merda e invece no invece no infatti siamo una delle squadre più punite dal VAR guardate un po' comunque nient'altro sono soddisfattissimo della prestazione per me è c'è in teoria per gioco è come se l'avessimo conquistato questo punto per il gioco poi ovviamente per la partita no perché è finita 2 a 1 cioè comunque in ogni modo è finita 2 a 1 comunque anche se la partita è stata rubata è comunque finita 2 a 1 quindi abbiamo perso cioè inutile lamentarsi troppo anche se io sono veramente senza parole questo calcio fa sì chi fa il cazzo ragazzi io veramente sono senza parole commentate con l'hashtag giua merda vai